Mi candido a sindaco per la città di Vicenza. Era già tutto previsto. Giacomo Possamai, targato Partito Democratico, si candida a sindaco di Vicenza. Ma non è il primo tentativo. Cinque anni fa si era pure proposto alle primarie, ma non era stato scelto dal popolo del centro-sinistra per essere il candidato nella corsa elettorale del 2018. Adesso, nel 2023, ci riprova senza primarie, ma il colpo di scena è che al momento balla, sì però, dice, balla da solo. Corro e che dico alle forze che vogliono costruire un'alternativa a chi ha governato la città in questi anni che sono aperto a ragionare a costruire una coalizione insieme. Quindi anche il PD è chiamato nelle prossime settimane a dire A, quali sono le sue proposte, le sue idee per entrare in questa coalizione, B, chiaramente a dichiarare il suo appoggio nei miei confronti. Cosa che al momento non ha ancora fatto. Ma come è possibile che il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, una delle prime cariche del partito in Veneto, si candidi senza avere il Partito Democratico alle spalle? Lui però intanto guarda alla sua corsa elettorale, che punta su una parola. Cambiare. Questa città ha bisogno di cambiare, ha bisogno di una scossa. Io sono pronto a dare a questa città un'impronta diversa e un cambiamento molto forte. Grazie. Grazie.